Due cavalieri stanno cavalcando e capitano in un posto fuori mano, in mezzo agli alberi, ombroso, pieno d'erba e di fiori, e si fermano un momento. Che bel posto per mangiare, fa uno all'altro, con un barilotto di vino, un buon pasticcio e qualcos'altro di buono, si starebbe meglio che a tavola in una sala. Dicono così e poi se ne vanno. Ed ecco che arrivano due chierici, che se ne andavano a spasso, e quando vedono un così bel posto si mettono a ragionare come fanno i chierici. E uno fa, a portarsi qui l'innamorata, sarebbe un gran bel posto per farci dei giochini. In un posto così, fa l'altro, bisognerebbe essere proprio dei vigliacchi per non riuscire a combinarci qualcosa. E vanno oltre senza fermarsi. Ora arrivano due villani di ritorno dal mercato, carichi di pale e di zappe. Si siedono proprio nel posto più bello e cominciano a chiacchierare a modo loro. E uno fa, compare, che bel posto per cagare. Facciamoci una cagata, compare.